Ben trovati e buona Pasqua a tutti voi da questa domenica di luce, da questa domenica di resurrezione, accogliamo l'annuncio del risorto. Sembra un'espressione fatta, anche molto bella, anche molto interessante dal punto di vista proprio del linguaggio. Brevemente vorremmo però comprendere che cosa significhi l'annuncio della resurrezione. Comporta un insieme di persone, una comunità, non c'è mai un annuncio, cioè una proclamazione, un dire che Gesù è risorto senza che questo avvenga, nell'insieme delle persone che ne fanno esperienza, lo comunicano e lo vivono. Cioè in altre parole dire che Gesù è risorto dal punto di vista dei discepoli e delle prime comunità cristiane che lo fanno suo significa fare un'esperienza profonda della vita che irrompe sulla morte e la formulazione di questo, noi siamo molto lontani dal tempo in cui l'evento della resurrezione di Gesù è avvenuto dal punto di vista storico, ma non lontani dall'esperienza che ne possiamo fare. Ancora dire che Gesù è risorto porta con sé e dirlo consapevolmente, dirlo con tutto il proprio essere, porta con sé l'esperienza di una vita piena nelle relazioni, nella comunità, nell'atteggiamento interiore e in tutto ciò che si vive e si sperimenta. Altrimenti questo della Pasqua, questo evento della Pasqua, verrebbe confinato ad una delle tante notizie della storia, ad uno dei tanti avvenimenti capitati nel passato, ma non è così quando un insieme di persone, molti o poche, non importa, incominciano a vivere la Pasqua, cioè incominciano a vivere nell'esperienza di tutti i giorni l'irrompere della vita sulla morte, non solo come paura del nostro ultimo finire, della nostra finitudine, ma delle piccole morte di ogni giorno, delle sofferenze, delle incomprensioni, delle difficoltà che ogni giorno viviamo. Quando in noi e nell'insieme di noi, nel gruppo di persone, incomincia ad inoltrarsi, ad inserirsi l'elemento della fiducia, dell'incoraggiamento, dell'amicizia, della condivisione, allora si incomincia a sperimentare che all'origine della nostra vita non c'è soltanto questa energia positiva che noi possiamo fare nostra, ma c'è il vivente, cioè dietro e oltre ogni morte c'è colui che ha vinto la morte e quando noi iniziamo a fare questo ci incontriamo con Gesù vivo, allora che possiamo partire intanto dai primi gradini, una vita autentica, una vita basata sull'amore, sulla giustizia, è il principio della risurrezione, poi inoltrandoci sempre di più in questo entusiasmo del vivere, del condividere, proprio come ultimo approdo, anche primo, come ultimo approdo significativo, non troveremo solo il principio vitale della vita che resiste alla morte, della vita che rompe nella vita, ma anche che c'è il vivente, colui che per primo ha varcato, ha creato questa breccia nei confronti della morte, rompendo nelle seduzioni, le paure, il vivente Cristo Signore che oggi proclamiamo e sentiamo veramente presente nelle nostre vite, nelle nostre comunità. Ancora buona Pasqua a tutti voi.